Ieri è partita la nostra programmazione sulle strade di San Nicola, l'appuntamento quotidiano che torna anche quest'anno nel quale vi racconteremo la fede, la condivisione e la cultura legata al santo più venerato al mondo. Tante le curiosità e le testimonianze che vi accompagneranno fino alle lunghe dirette. In programma il 7 sera con il corteo storico e poi l'8 maggio, la mattina con la processione a mare e poi la sera quella via terra, durante le quali permetteremo a chi ci segue da casa di vivere i momenti salienti della festa. Nella prima puntata vi abbiamo fatto rivivere le emozioni di chi si è candidato a voler essere protagonista della festa. Una devozione che si rinnova ogni anno e che spinge tantissimi baresi e non solo a vivere da vicino e da protagonisti il corteo storico del 7 maggio dedicato al santo patrono di Bari, San Nicola. Lunghe code presso l'ex manifattura tabacchi di chi quest'anno vuole prendere parte allo spettacolo diretto dal regista Raffaello Fusaro. Nella prossima puntata in onda oggi a partire dalle ore 17.45 e poi in replica alle 21.45 e alle 23.45 il racconto di due generazioni a confronto e le emozioni legate a San Nicola in una barivecchia tra ieri e oggi.